Ok, direi che possiamo iniziare quindi. Allora, buonasera a tutti. Allora, stasera ha partecipato a questo evento, siamo a una notte al CERN. In sostanza, insisterà in un collegamento in diretta con alcuni nostri colleghi che appunto si trovano al CERN, ai laboratori di Ginevra, che spiegheranno loro che cosa fanno e che cosa consistono. Sì, no, quelli siete voi. Quindi loro ci vedono. Sì, sì, esatto, loro vi vedono. In particolare, stasera siamo in collegamento con Roberto, che è una vecchia conoscenza dell'Università di Firenze, ha studiato anche lì qua. Adesso lavora al Politecnico di Zurigo. E Sonia, che partecipa a un altro esperimento, ma stasera ci illustrerà in dettaglio uno dei fatti degli esperimenti principali che si trovano all'acceleratore dell'HCV4. Quindi darei la parola direttamente a loro per le presentazioni e per dirci anche dove siete in particolare adesso. Ciao, buonasera a tutti e tutte. Buonasera. Come Mattia ha detto, io sono Roberto. Ho studiato a Firenze, ho fatto tutti i miei studi a Firenze, fino al dottorato compreso. E ora lavoro al Politecnico di Zurigo. E qui con me c'è Sonia. Sì, invece io vengo da Roma. Però ho finito la mia tesi di laurea qui al CERN, poi un anno al Politecnico di Lausanna, infine il dottorato all'Università di Ginevra. Mi sento un po' la concorrenza, ma il fatto che io appunto, come dire, faccia parte di un altro esperimento, significa che stare a CMS è veramente qualcosa di importante, di sorprendente. Quindi sarò qui per descrivere la parte sotterranea dell'esperimento, per condurvi nei meandri di questo esperimento, dal tetto fino alle fondamenta, diciamo così. Come ha detto Mattia, questa vuole essere veramente una chiacchierata. Quindi noi siamo qui per cercare di farvi vedere il più possibile di quello che facciamo qua, spiegarvi un po' l'idea di quello che facciamo, come lo facciamo, quali sono le sfide, quali sono le cose belle, che speriamo di convincervi che siano tali. Ma veramente se avete qualsiasi domanda, in qualsiasi momento ci interrompete, fate la domanda e faremo del nostro meglio per rispondere. Sì, non è detto che sappiamo rispondere, però ci proveremo. D'accordo. Dove ci troviamo? Ci troviamo vicino a Ginevra, non proprio a Ginevra, siamo in realtà in Francia, e ci troviamo su questo enorme anello, che è l'acceleratore di particelle del CERN. And you, thank you very much. Roberto, ti interrompo un attimo. Visto che io devo cominciare il mio viaggio nell'oltretomba, direi che io ti lascio, ti affido il pubblico, mentre tu fai queste spiegazioni, io intanto mi preparo, e ci rivediamo appena sono. Tu guardi, io faccio segni. Vi saluto e ci vediamo tra un pochino. Ciao, ciao. E come dicevo, noi ci troviamo su questo enorme anello, vedete qua, segnato in giallo sulla mappa, è veramente una struttura imponente, è un anello di 27 chilometri di circonferenza, si chiama LHC, è la Jadron Collider, ed è il fiore all'occhiello dei laboratori del CERN. E' un enorme acceleratore di particelle, che è costruito appunto per accelerare fasci di particelle, di solito protoni, non solo, possiamo accelerare anche ioni, ma di solito protoni, e con lo scopo poi di farli scontrare fra di loro a energie molto 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 alte. Se parliamo in termini di velocità, raggiungiamo una velocità che è sostanzialmente quasi quella della luce. Non si può arrivare alla velocità della luce, ma ci andiamo molto molto vicini, è il 99, tutta una serie di 9% della velocità della luce. E cosa ce ne viene di far scontrare fra di loro queste particelle? Quello che otteniamo è di sondare come è fatta la materia nella sua composizione più fondamentale, se volete, d'accordo? Sostanzialmente quello che potete pensare è come un microscopio, un gigantesco microscopio che ci permette di, appunto, indagare, andare a vedere all'interno delle particelle di cui siamo composti. Noi siamo composti, sapete benissimo, di atomi, vari tipi di atomi. Se andiamo a vedere come è fatto un atomo, dentro ci sono sostanzialmente tre cose, elettroni, protoni e neutroni. Abbiamo scoperto, non troppo recentemente, che anche all'interno del protone ci sono altre cose, si chiamano quark, gluoni, e quindi quello che stiamo facendo attualmente è studiare come le cose di cui è fatto il protone si compongono. Quindi sostanzialmente, appunto, un norme microscopio da questo punto di vista. Ci sono sostanzialmente tre grandi fasi, a me piace vederla così, nella fisica che facciamo qua. Chiaramente la prima cosa che dobbiamo fare è accelerare queste particelle alle massime energie che riusciamo a raggiungere e farle scontrare fra di loro. Questo è il lavoro, appunto, di questo acceleratore che si chiama LHC. Una volta che siamo riusciti... C'è una domanda? Sì, c'è una domanda. Aspetta, eh. Pronti? Ciao. Ciao. Le sono due. Siamo quasi a 14 TeV, quindi siamo 6 Tera elettronvolt per fascio. Quando poi si scontrano l'energia si raddoppia e quindi siamo quasi a 14 Tera elettronvolt che è un'energia che magari è un po' difficile da quantificare. Però diciamo che le energie tipiche delle particelle che si muovono a temperatura ambiente, se prendete un gas che si muove a temperatura ambiente sono frazioni di elettronvolt e qui siamo a Tera, quindi un... Siamo ordini e ordini e ordini di grandezza sopra e quindi queste sono le energie in gioco. Poi, diciamo, se vogliamo entrare un attimino proprio nel dettaglio, in realtà questo è un po' barare perché il protone non è una pallina solida, è fatto di altre cose, quindi in realtà quando poi si scontrano c'è una frazione di questa energia che effettivamente diciamo viene utilizzata nella collisione, però è una frazione che varia all'intorno di questa quantità, quindi comunque energia è molto molto grande. Le massime energie che si possono raggiungere attualmente in laboratorio. Vedo che Sonia intanto è arrivata davanti all'angar. Sì, sì, sono già... Una curiosità, ma da voi, nell'audience, è buio o è ancora così giorno come qui? Perché qui di fatto è metà pomeriggio direi come luce. Come vedete è ancora tutto illuminato quindi abbiamo la possibilità, mi salutano, io ti saluto dei colleghi dall'altra parte che hanno finito il loro shift, il loro turno. E allora, dove siamo? Siamo qui di fronte a questo edificio dove poi entreremo e questo edificio cercherò di darvi un po' l'idea di quanto è grande. Allora, io comincio ad utilizzarmi come effettivamente unità di misura. Io sono un metro e sessanta, non sono altissima né bassissima, diciamo, un metro e sessanta. Ecco, questo è quello che, come sono io rispetto a questo edificio, che come vedete è molto grande e questo edificio, diciamo, prima del 2008, dal 2000 al 2008, ha contenuto l'esperimento che andremo adesso a vedere che è nella caverna a meno 100 metri di profondità, lo ha contenuto totalmente. Questo è uno dei primi record di CMS, il fatto che l'esperimento sia totalmente stato assemblato in superficie, mentre gli altri esperimenti, i vari pezzi, vedete che l'esperimento, poi ve lo mostrerà meglio Roberto con le varie figure, è composto da tanti pezzi come un Lego, se volete. ho fatto giorni fa un confronto che sembra aver funzionato, ho parlato di una viennetta, effettivamente la forma di questo esperimento è come una viennetta e così come la viennetta ha gli strati all'interno quando ne tagliate una fetta, anche questo esperimento ha degli strati. Ora questi strati normalmente vengono costruiti nei laboratori e poi si portano a 100 metri di profondità e si assemblano. questo non è avvenuto per CMS, CMS è stato totalmente assemblato qui come cilindro totale e poi vi dirò le dimensioni ed è stato costruito anche con una tecnica particolare che è quella proprio di fette singole esattamente come quando tagliate una viennetta questo perché per la problematica di poterlo può scendere a 100 metri di profondità quindi si è scesa una fetta alla volta com'è che si è fatto fuori da questo edificio perciò ve lo mostro è stata montata una di quelle gru da cantiere da porto quelle veniva dal porto di Genova e di fatto ha sceso queste fette una per volta già assemblate all'interno della caverna sotto vedremo anche riusciremo a distinguere le varie fette io adesso entrerai dentro per mostrarvi quanto è ampio questo locale e per avvicinarmi ad una ad una foto non una riproduzione ma veramente una foto a grandezza reale dell'esperimento di nuovo per darvi l'idea di quanto è grande questo esperimento ci vediamo tra un attimo grazie Sonia cos'è questo esperimento appunto nella catena che vi raccontavo vi ho parlato un po' dell'acceleratore molto brevemente e quindi l'acceleratore produce queste collisioni naturalmente la seconda fase è registrare cosa avviene in queste collisioni e questo è il ruolo dei rivelatori o esperimenti del CERN ce ne sono tantissimi di varie dimensioni e scale i quattro più grandi sono ATLAS CMS LHCB e ALICE appunto noi siamo all'esperimento CMS quando diciamo grandi parliamo veramente di dimensioni notevoli ora Sonia vi farà vedere queste immagini uno a uno poi scenderemo sotto terra a vederlo dal vivo e queste sono sostanzialmente delle gigantesche macchine fotografiche tridimensionali le potete pensare così sono enormi macchine fotografiche che fanno una di queste foto 3D ogni 25 nanosecondi quindi 40 milioni di volte al secondo questi esperimenti fanno una foto tridimensionale di di quello che avviene nella collisione vedete in questo schema una rappresentazione 3D di come è fatto l'esperimento poi Sonia ve lo farà vedere ma come diceva lei è fatto a strati la collisione avviene nel centro i due fasci entrano da questa direzione e analogamente dalla direzione opposta collidono nel centro nella collisione l'energia della collisione viene trasformata in altri tipi di particelle che normalmente non ci sono intorno a noi e queste particelle poi attraversano i vari strati di cui è composto l'esperimento che sono vari tipi di rivelatore che hanno scopi diversi e che li permettono poi di rivelare questi vari tipi di particelle quindi vederne la presenza e misurarne le caratteristiche ne possiamo misurare l'energia ne possiamo misurare il tipo la carica eccetera e questo ci dà un quadro completo della collisione e questo è il ruolo diciamo dei rivelatori ora passerei di nuovo la parola a Sonia che ci fa vedere un po' dal vivo allora dunque vi faccio vedere di nuovo le dimensioni degli oggetti in questa sala ecco questo è una diciamo una macchinina che può trasportare materiale ora se Noemi mi aiuta ci giriamo non so se riuscite a percepire quella zona gialla che ho alle mie spalle in alto bene per darvi il senso della profondità allora da dove sono io fino a laggiù era installato questo esperimento questo grande cilindro posso darvi le dimensioni più o meno diciamo facciamo una dimensione media 24 metri di lunghezza una bella viennetta lunga 24 metri e se ne tagliate una fetta il diametro è 15 metri a cosa corrisponde nella vita reale 24 metri un piano normalmente di un appartamento diciamo si calcolano 3 metri di media quindi parlare di 24 metri vuol dire un palazzo di 8 piani e parlare di 15 metri vuol dire un palazzo di 5 piani quindi avevamo un oggetto tutto quanto costruito qui a fette pronto per essere calato giù fetta per fetta e adesso pian pianino io mi giro e vi porto vicino alla foto uno a uno seguitemi un attimo perché la intravedete già ma la grande impressione la abbiamo nel momento in cui io mi avvicinerò quindi vado vicino alla foto di nuovo mi uso come misuratore Noemi si è fermata proprio per mostrare l'immagine e come vedete diciamo che già io non è che sia altissima però vicino a questo oggetto risulto ancora più piccola questo è l'oggetto che è installato a 100 metri di profondità per essere onesta al CERN ce n'è un altro che è ancora più grande il diametro non è di 15 metri ma è di 27 metri un palazzo di 9 piani però se quello vince come dimensione ok esterna vero è che questo esperimento che si chiama CMS quindi si chiama solenoide poi Roberto vi spiegherà legato al magnete per muoni compatto è talmente compatto che il suo peso è il doppio dell'esperimento che invece ha una dimensione che è quasi doppia di questo qui quindi diciamo se uno vince per dimensione l'altro vince per peso e poi parlerò anche del peso ora vedete i vari pezzi che vi dicevo che costituiscono gli strati tutto è stato montato qui con la precisione di poche decine di micron un micron vi ricordo un milionesimo di metro di nuovo un confronto nella vita di tutti i giorni la sezione di un capello umano è all'incirca 100 micron e qua stiamo parlando invece di allineamenti tra un pezzo e l'altro tra uno stato e l'altro di circa diciamo può andare dai 10 ai 50 micron cose del genere ora io mi sto muovendo qua su questo pavimento che è un pavimento in realtà che può essere eliminato immobile che cosa vuol dire nel momento in cui non abbiamo collisioni cioè non facciamo fisica questo pavimento qui viene ritirato cioè va indietro va verso la foto e si apre e sotto di me c'è un buco un grande buco grande quanto grande quanto il diametro della foto che state vedendo è praticamente il foro da cui è stato calato sono state calate fetta per fetta le parti dell'esperimento in questo momento è chiuso perché a parte oggi che potremmo entrare ma abbiamo della fisica normalmente viene tutto sigillato perché c'è una griglia e questo viene aperto e questo succede normalmente quando abbiamo i periodi di stop li chiamiamo i periodi di shutdown ci sono periodi brevi che abbiamo tutti gli anni da diciamo fine novembre fino all'incirca all'inizio marzo sono periodi in cui si fa della manutenzione se bisogna cambiare un pezzo se bisogna ripararlo se bisogna controllarlo tutti gli esperimenti l'acceleratore si ferma e tutti gli esperimenti riparano o controllano le loro le loro parti e poi abbiamo anche allora in quel caso si apre questo buco ma si fa un'attività limitata chiaramente perché il tempo è limitato ci sono poi ogni tre anni e mezzo all'incirca quelli che chiamiamo i long shutdown vuol dire dei periodi di stop previsti già ce ne sarà uno nel 2025 di circa un anno o anche un pochino di più dipende ma diciamo di circa un anno dove in realtà andiamo veramente ad aprire totalmente a entrare all'interno di tutti i pezzi del rivelatore per fare una grande manutenzione e di nuovo questa parte viene aperta e che cosa ci facciamo con questo buco non riportiamo sull'esperimento impossibile ma attraverso le gru gialle che vedete che vi ho indicato prima possiamo trasportare dalla caverna sperimentale fino alla superficie o viceversa i pezzi che vanno sostituiti o vanno controllati o vanno ripuliti o chi ne più ne ha più ne metta credo Roberto vuoi che faccia vedere qualcosa della foto posso continuare nel mio percorso mentre tu continui nelle spiegazioni secondo me puoi tranquillamente andare e procedere verso la caverna così poi ci racconti ci rivediamo allora davanti alla porta di entrata tra qualche minuto va bene grazie ottimo grazie a te avete qualche domanda nel frattempo se no andiamo avanti io parlo finché volete si arriva pronti vorrei sapere se era l'esperimento che ha rivelato il bosone è quello uno dei due uno dei due sì il primo insieme insieme ok grazie diciamo questo è anche il motivo per cui sono stati costruiti questi due esperimenti che sono molto diversi ma hanno più o meno lo stesso scopo e il motivo è proprio fare un cross check questi sono esperimenti unici nel loro genere quindi diciamo se esistesse solo CMS e noi avessimo comunicato la scoperta di una nuova particella diciamo noi facciamo del nostro meglio per fare le cose al meglio possibile facciamo tutti i controlli del caso un errore può sempre scappare non si sa mai e per questo motivo anche è stato diciamo da subito non c'è stata l'idea ma è da tanto tempo che si fa così di costruire una coppia di esperimenti l'altro esperimento nostro cugino è Atlas quello di cui parlava Sonia prima e così facendo quando entrambi gli esperimenti in modo indipendente quindi facendo lavori diversi ma cercando la stessa cosa entrambi trovano la stessa cosa nello stesso posto quindi la stessa particella che si comporta nello stesso modo che sembra avere tutte le stesse caratteristiche allora ci sentiamo davvero pronti ad annunciare che abbiamo effettivamente scoperto una nuova particella in natura deve aver risposto alla domanda sì perfetto grazie vedo che Sonia nel frattempo è arrivata all'ingresso della caverna quindi prego ok mi senti ti sento ti sentiamo ok perfetto niente volevo sentire intanto la domanda e quello che rispondevi quella che chiamiamo collaborazione scientifica che di fatto è appunto un controllo un mutuo controllo per essere sicuri che un esperimento non abbia un difetto e che quindi quell'anomalia che si vede non sia dovuta a un problema dell'esperimento ma che sia veramente un'anomalia dovuta alla natura poi che la che la collaborazione scientifica a volte diventi anche molto dura diciamo ci sta nei corridoi diciamo che è una specie a volte di un po' non voglio dire di spionaggio però diciamo che ognuno si tiene le cose per sé e poi si tirano fuori le carte alla fine dunque non ho rovinato non ho smontato l'LHC ma questo è un tubo dei fasci abbiamo qui un modello di una parte dell'LHC e questo effettivamente non so se riesco a farvelo vedere è quella che chiamiamo la beam pipe il tubo dei fasci allora vi metto un dito insomma il mio dito non è più piccolo del normale è un dito normale quindi vi rendete conto più o meno di quanto è grande questa quel diametro di questo di questo tubo è metallico con vari rivestimenti per motivi tecnici e questo tubo ce ne sono due che corrono in parallelo e formano il famoso anello dell'LHC che è lungo 27 chilometri il materiale come ho detto è metallico e sono due tubi ma quando entriamo all'interno dell'esperimento quindi per esempio di CMS ma anche degli altri in realtà abbiamo un solo tubo e quindi voi immaginate come Roberto se ho capito bene vi sta facendo vedere avete un fascio di particelle che entra di qua un altro dall'altra parte e al centro dell'esperimento avviene la collisione o meglio avviene l'incrocio dei fasci da cui poi noi abbiamo le collisioni delle varie particelle con le mie dita cerco di fare sto cercando di fare le tracce delle nuove particelle che escono fuori per fare in modo che ciò che avviene dentro sia esattamente quello che io vedo fuori devo cambiare materiale perché il metallo è un materiale se volete pesante per cui nel momento in cui le particelle prodotte dentro attraversano lo strato metallico del tubo dei fasci potrebbero subire delle modificazioni e questo non lo vogliamo allora cambiamo il materiale ma solo dentro proprio all'esperimento e usiamo un altro materiale che è più leggero noi diciamo che è trasparente cioè che permette di far passare queste particelle prodotte dentro senza essere modificate ed è il beriglio detto un po' questo e poi lascio le dichiarire un po' meglio a Roberto lo poggio qui per il momento e parto e vi spiego come si entra dunque abbiamo la porta di entrata questa è una porta per persone e effettua tre controlli un primo controllo è di peso non perché io veda il mio peso ma verifica che il peso che viene introdotto è all'interno di una finestra che è ragionevole con il peso di una persona perché non è una porta per materiale dopodiché che cosa verifica anche chiaramente siccome portare il materiale bisogna fare una ulteriore un ulteriore giro a volte uno affretta e quindi magari dice mi metto uno zaino sulle spalle dentro non è possibile entrare in questa maniera perché ci sono dei laggi infrarossi che verificano che io non sto portando per esempio uno zaino dietro o altre cose in mano e terza cosa che invece è specifica della persona che ne entra quindi che riguarda l'autorizzazione per poter entrare è la lettura dell'iride cioè la lettura biometrica che viene effettuata attraverso questa macchinetta qui ora io entrerò sperando che tutto funzioni e vedrete e vedrete com'è che faccio quindi mi lascio mi faccio riconoscere dal mio dosimetro personale il sistema mi apre la porta entro dentro aspetto che la porta si chiude normalmente quando si chiude la porta vuol dire che è tutto a posto e faccio la mia lettura dell'iride aspettando che mi si apra l'altra porta e infatti sono riuscita ad entrare stavo per inciampare con una un tappeto che pulisce le scarpe e adesso aspetto Noemi che entrerà anche lei ma con la webcam sta facendo la stessa mia procedura e normalmente lei riesce a farvi vedere anche cosa si vede nella lettura biometrica mettendo proprio la webcam non so se lo farà adesso si lo sta facendo in questo momento quindi lettura biometrica ed è siamo passati entriamo nel cominciamo ad entrare siamo ancora in superficie ma siamo entrati cominciamo ad entrare nella zona antistante la zona sperimentale Oh no le abbiamo perse un secondo c'è un po' segnale eh il problema in realtà sottoterra prende molto bene si vede che adesso lì in quella zona non prende granché vabbè aspettiamo che si riconnettono sì sì sicuramente questa è la porta del materiale ecco dove no tornare abbiamo perso un attimo no ancora niente e alla fine il problema uno può essere anche al CERN dove è tutta la tecnologia del mondo ma il problema è sempre che non c'è rete dove internet è stato inventato eppure non c'è niente da fare non c'è niente da fare adesso lo chiamerò e la scelta un attimo ecco ora vi abbiamo ripreso sì vi avete ripreso ora sì ora ci siete cosa è mancato gli ultimi 20 secondi gli ultimi 20 secondi quindi niente la porta blu di fatto da dove entra il materiale questo qua stavo dicendo che è praticamente io devo depositare il materiale dentro passare attraverso la porta verde e poi recuperare il materiale dalla parte interna di questa porta questo chiaramente prevede alcuni minuti di procedura e chiaramente a volte uno a fretta non lo vuole fare qui invece abbiamo l'ascensore esatto qui abbiamo l'ascensore che tra un po' arriverà eccolo qua siamo quasi arrivato e come ben sai Roberto io appena entro si perderà quando comincio a scendere si perderà un attimo la connessione che riprenderò sotto quindi faccio solo vedere quali sono i livelli e poi ti passo ti passo di nuovo la la linea come vedete è un grande ascensore ci possono entrare trenta persone abbiamo tre livelli zero superficie meno uno meno ottanta metri circa meno due meno novanta metri meno tre meno cento metri noi andiamo al meno due vi lascio con l'immagine della profondità e ci sentiamo quando siamo sotto ci sentiamo fra un minutino allora si all'incirca perfetto grazie appunto ora Sonia sta scendendo nella caverna sotterranea in realtà sono due le caverne sotterranee le chiamiamo la caverna di servizio e la caverna sperimentale la caverna sperimentale la seconda che vedremo è quella più affascinante perché è la caverna che contiene CMS quindi questo apparato di cui ha parlato Sonia che poi vi farà vedere dal vivo andandoci sopra sotto ve lo farà vedere da tutti i lati la prima invece caverna in cui si arriva si chiama caverna di servizio che contiene appunto i servizi questi servizi sono tutto ciò che serve a far funzionare CMS quindi sistemi di alimentazione sistemi di riciclo di gas per i sistemi che ne hanno bisogno sistemi di soprattutto di di readout quindi tutto il sistema di presa dati che ci permette una volta che CMS ha fatto una di queste foto tridimensionali di di effettivamente leggerla salvarla vedete qua una mappa delle due caverne ora Sonia scenderà qua PM54 è l'ascensore in cui si trova Sonia attualmente dopodiché vi farà vedere un pezzettino piccolo pezzettino della caverna questa che chiamiamo di servizio e poi passeremo alla caverna sperimentale che vedete è meno allungata un po' più cicciottella perché appunto deve contenere CMS questo qua che è indicato come Pix56 è il foro da cui sono state calate ognuna delle fette di cui è composto questo cilindro che vi raccontava prima Sonia perché sottoterra perché fare tutto questo sottoterra beh il motivo se volete non è spesso uno sente dire perché magari è pericoloso per motivi di radiazioni non è niente di tutto questo il motivo è semplicemente che è molto più comodo avere un un pezzo di tecnologia così raffinato e così grande sottoterra immaginatevi la difficoltà di costruire un anello di quasi 30 chilometri di lunghezza che deve essere allineato anche quello al millimetro che è raffreddato a temperature che sono quasi lo zero assoluto con dei magneti potentissimi che consumano anche un sacco di corrente per tenere i fasci in orbita pensate che costruire tutto questo fra le strade le autostrade le stradine di campagna le case delle persone chiaramente non è fattibile per questo si va sottoterra perché così tanto sottoterra perché per la conformazione geologica della zona questa era la profondità ideale in cui c'era uno strato di diciamo di roccia stabile su cui poter costruire l'esperimento la prima cosa che vi farà vedere Sonia quando le diamo giù è quello che chiamiamo il sistema di trigger se vogliamo cos'è il sistema di trigger è un sistema affascinante per quanto mi riguarda ed è il sistema che decide quali eventi salviamo vi ho detto che CMS fa una foto ogni 25 nanosecondi quindi 40 milioni di volte al secondo Roberto scusa dimmi Sonia posso interromperti perché così mentre tu descrivi questo io passo direttamente faccio vedere intanto i cavi mentre tu descrivi tutto quanto quindi se mi dai solo 30 secondi per arrivare alla porta certo e arrivo allora volevo solo dire che sono fuori dall'ascensore adesso apriamo entriamo nella vera e propria zona sperimentale poi siamo ancora in una zona protetta e ci dirigiamo dove ha detto Roberto verso una delle delle camere delle stanze dove c'è dell'elettronica non è l'unica ce n'è una diciamo gemella questa a livello superiore e ce n'è poi un'altra che però è di fatto è grande quanto la somma di questi due dall'altra parte della della caverna viene chiamata counting room e Roberto adesso vi spiegherà esattamente cosa è il trigger io dentro è veramente molto molto rumoroso quindi riesco a parlare pochissimo cosa vedrete vedrete tanti cavi cavi standard e anche fibre ottiche vi invito a guardare come sono come sono le connessioni come sono raggruppati questi cavi la regolarità il fatto che ciascuno abbia la propria etichetta e sono effettivamente sono parte del cervello dell'esperimento noi come visita virtuale siamo autorizzati ad entrare nei corridoi vi farò vedere che invece quando uno viene qui in visita di persona non può entrare quindi noi siamo autorizzati a fare questa cosa quindi vi porto un po' in una parte diciamo nascosta ai visitatori che vengono qui di persona quindi seguitemi e Roberto ti lascio la parola per la descrizione ottimo grazie quindi dicevo questo sistema cosa fa CMS fa una foto 40 milioni di volte al secondo e ognuna di queste foto pesa svariati megabyte ora qualche megabyte non sembra tanto al giorno d'oggi ma se le moltiplicate per 40 milioni di volte al secondo è un flusso di dati che diventa rapidamente una youtube ogni qualche minuto quindi non possiamo salvare tutti questi dati ecco qua sono entrata nella zona VIP per così dire qui i visitatori se voi veniste in visita cosa che vi invito a fare tra l'altro potete venire quando volete ci mandate una mail organizziamo una visita per voi però qui dove è Sonia non ci potreste andare e questo sistema che vi sta facendo vedere Sonia con tutti questi cavi molto ordinati è appunto il sistema di trigger cosa fa questo sistema visto che questa mole di dati non riusciamo a salvarla tutta sono troppi dati quello che facciamo è una selezione on the fly quindi facciamo comunque una foto ogni 40 scusate ogni 25 nanosecondi ma non salviamo tutte queste foto queste immagini una versione se volete a più bassa risoluzione per fare un'analogia viene prima mandata dalla caverna sperimentale dove andremo quindi da CMS a questo sistema questo sistema è basato su dei processori programmati da noi che hanno il compito di prendere queste immagini se volete a risoluzione ridotta e elaborarle in un tempo rapidissimo e prendere una decisione una decisione che sostanzialmente ci dice questo evento questa quello che noi chiamiamo evento quindi questa singola collisione ha prodotto qualcosa di potenzialmente interessante oppure no cosa intendiamo per interessante per collisioni perché alcune collisioni producono eventi più interessanti di altri questo è dovuto al fatto che i nostri colleghi che si occupano di gestire l'acceleratore sono per me per quanto mi riguarda dei maghi riescono a fare riescono a avere un controllo su questi fasci che viaggiano quasi alla velocità della luce incredibile tuttavia non è che si può controllare proprio ogni singola coppia di particelle esattamente come si scontra quindi si fanno scontrare delle nuvole di protoni di particelle e alcuni di questi collideranno ora la collisione semplificando un po' ma l'idea è quella può avvenire o di striscio oppure frontale la collisione di striscio è quella che ci interessa un po' di meno perché l'energia che viene scambiata tra le due particelle è meno è minore quando la collisione è frontale pensate magari un esempio un po' triste ma pensate a un frontale entrambi i protoni si sfasciano completamente e tutta l'energia della collisione viene è a disposizione per generare delle nuove particelle che sono quelle che ci interessano e quindi noi fra tutte le collisioni che avvengono dobbiamo cercare di capire quali sono quelle centrali quelle frontali ad alta energia trasferita e quali sono invece quelle periferiche ora questo sembra facile ma in realtà noi non è che abbiamo un video di queste particelle che si avvicinano e si scontrano quello che vediamo è quello che vedete qui quindi noi abbiamo questa foto tridimensionale in cui abbiamo tutta una serie di informazioni abbiamo queste linee gialle quindi quello che vedete che vedete fra un attimo è quello che vediamo d'accordo quindi non è diciamo banale capire la differenza abbiamo chiaramente degli algoritmi che disegnati da noi che lo fanno il meglio possibile ma non è proprio come vedere un video di uno scontro noi vediamo solo i prodotti dobbiamo poi fare una specie di se volete riavvolgimento che è il lavoro poi di analisi di questi dati per capire dal prodotto finale che è questa cosa qua cosa è successo nella collisione cosa vedete qua vedete una serie di cose sono tutte informazioni dei vari tipi di particelle che hanno che sono state prodotte nella collisione e che attraversano CMS queste linee gialle arancioni sono quelle che chiamiamo tracce quindi il sistema più interno di CMS che è stato tra l'altro in buona parte assemblato dove siete voi adesso all'INFN di Firenze che cosa fa registra proprio il passaggio delle particelle quindi sono proprio le traiettorie che le particelle hanno percorso e questo ci permette di non solo sapere che sono passate ma anche di misurarle in energia come facciamo a misurare l'energia curvandole con un enorme magnete di cui poi parliamo meglio dopo e che Sonia vi farà anche diciamo di cui Sonia vi darà un assaggio possiamo misurare l'energia di queste particelle vedo che Sonia è arrivata quasi al momento clou della visita quindi ridò la parola a lei grazie Roberto stavo seguendo le tue spiegazioni ero totalmente immersa in questa in questo mare di cavi che che hanno poi la loro bellezza devo dire cioè nel senso allora bisogna dire anche un'altra cosa al di là della parte scientifica che immagino tutti siano come dire le persone che sono sono nel pubblico chiaramente sono stati attirati da questa possibilità di vedere un esperimento qualcosa di scientifico però in realtà ci è messa anche un'altra sensibilità da tanto tempo che è quella di collegare diciamo così delle attività artistiche con la scienza anche perché la creatività in scienza è fondamentale se non si è creativi non si riesce a fare un nuovo rivelatore non si riesce a inventare una nuova teoria non si riesce ad avere nuove idee per dare delle spiegazioni e quindi io li vedo anche un po' come messaggi creativi quando si fanno questi cablaggi un po' così tutti quanti regolari hanno la loro bellezza tornando a noi sono arrivata alla fine di quella che tu avevi spiegato penso che tu abbia messo la mappa di quella che è la caverna di servizio detta così perché ovviamente contiene tutti gli oggetti che servono per far funzionare l'esperimento tra cui un esempio è l'elettronica abbiamo questa porta oltre questa porta se io l'aprissi non lo farò perché è di fatto è sigillata è piombata è una porta che ha c'è un corridoio oltre questa porta che conduce al tunnel dell'acceleratore tuttavia il motivo per cui questa porta è qui non è per andare all'acceleratore ma è semplicemente perché è una una via di evacuazione nel caso in cui si debba uscire da questa parte sotterranea e non si possa tornare per il percorso che io ho fatto fino adesso per quale motivo non perché posso evacuare verso l'acceleratore ma perché c'è parallelamente un altro ascensore e quindi c'è la possibilità di tornare in superficie ora le due caverne che come Roberto vi diceva sono messe in parallelo io mi trovo in quella alla vostra destra se non mi sbaglio nello schermo queste due caverne sono connesse allora innanzitutto sono divise tra i loro da un muro che viene chiamato Piliè e che è spesso sette metri di cemento armato ed alto più dell'esperimento quindi alto più di un palazzo di cinque piani e questo questo muro divide le due caverne e protegge le persone che sono qui dalle radiazioni che vengono prodotte nella caverna sperimentale quando c'è fascio ora dall'altra parte non vi ho fatto vedere qual è il punto di connessione ma da questa parte posso farvi vedere che abbiamo questo corridoio che mi sta portando proprio dalla caverna di servizio fino alla caverna sperimentale quindi io percorro questo corridoio e ovviamente devo passare un altro controllo questa è una porta gialla ma funziona esattamente come la porta che abbiamo visto sopra quindi mi farò riconoscere con il mio dosimetro se mi riconosce vediamo un po' eccomi qua si apre la porta entro dentro e farò i tre test di cui avevo parlato prima test di peso test infrarosso e test biometrico se tutte e tre funzionano la porta viene aperta come in effetti è stato ora aspetto che Noemi mi segua e appena saremo da questa parte saremo vicini alla porta che ci conduce all'esperimento siamo quasi siamo molto fortunati a poter fare questa cosa perché di solito non è possibile no in questo periodo effettivamente non è possibile è una grande fortuna poter entrare nella caverna diciamo che quello che è un po' meno interessante è che il magnete non è acceso però potremo avere come dire una piccola degustazione del campo magnetico quando sarò vicino all'esperimento quindi eccomi qui se mi seguite questo corridoio e siamo arrivati davanti alla porta dell'esperimento ora tutto questo percorso che io sto facendo se voi voi veniste qui di persona fareste la stessa cosa va vi fermereste sulla balconata dove arriverò tra qualche secondo mentre io quello che farò dopo essere passata per la balconata mi dirigerò veramente all'interno dell'esperimento quindi apriamo la porta che è sufficientemente pesante perché è metallica ma anche perché c'è una sovrapressurizzazione e quindi la accompagniamo un pochino per non far fare troppo rumore ed ecco qui siamo nella caverna sperimentale e questa è la balconata di cui vi parlavo ora dovete immaginarvi che l'esperimento parte da qua e prosegue sulla mia destra per all'incirca diciamo 21-25 metri più o meno 24 metri abbiamo detto in media e qui abbiamo di fatto tutta questa parte che vedete qua è una parte protettiva di controllo e di misura anche ma all'interno di tutta questa parte arancione che vedete all'interno c'è questo tubo che vi ho fatto vedere sopra è che effettivamente il tubo dell'LHC che penetra all'interno dell'esperimento al centro proprio della viennetta per fuoriuscire dall'altra parte e i due fasci si scontrano proprio al centro posso farvi vedere anche così poi mi sposto sopra e do la ruola a Roberto le fette di cui parlavamo ecco queste gabbie che vedete verdi aspettate io vado dall'altra parte un attimo abbiamo qui le fette eccole qua una due e continuiamo ad andare e la cosa che è sorprendente ve lo faccio vedere qua allora quando queste fette sono state scese all'interno del tubo quindi immaginate che avete un cilindro e dovete far scendere la fetta dentro lo spazio che restava tra la fetta e la parete era questo ok questo è lo spazio che restava all'incirca dieci centimetri da questa parte e nella parte opposta altri dieci centimetri quindi vedete è stato un lavoro di precisione mi piace sottolineare che questo non è un lavoro di fisici questo è piuttosto un lavoro se volete di ingegneria e di geometri ingegneri civili quindi vedete che in realtà le competenze qui si mischiano e non ci sono soltanto i ricercatori di fisica per fare ricerche come vi stava spiegando Roberto ma in realtà facciamo tutto è una collaborazione anche in competenze è tutto fatto per poter avere il funzionamento di questo esperimento Roberto io faccio una cosa ti ridò un po' la parola la linea e mi dirigo verso il tetto va bene? aspetto ottimo sì sì d'accordo ecco da qua si vede abbastanza va bene se ci sono domande se no io appunto continuo tranquillamente una domanda sì ciao Roberto ciao i due subi diceva c'è due subi che si girano per sette chilometri e poi si riuniscano nell'esperimento poi si cambia anche il materiale diventa metallo di taberiglio come i due subi come fai c'è c'è così energia sparata come fai ad aggruppare? ottima domanda con dei magneti alla fine tutto il pilotaggio dei fasci viene tutto tramite i campi magnetici abbiamo sostanzialmente due grandi famiglie di magneti nell'acceleratore che svolgono due categorie di compiti importanti abbiamo i magneti di curvatura chiamiamo di poli sono i magneti più potenti e questi magneti hanno il compito di far curvare i fasci chiaramente questi fasci a energia così alta vorrebbero andarsene semplicemente dritti non è che li possiamo curvare facendoli sbattere contro le pareti del tubo perché sono delle particelle che non si comportano come delle palline quindi l'unico modo per tenerli dentro l'acceleratore è con questi magneti il secondo tipo di magneti che abbiamo sono i magneti di quelle che chiamiamo ottiche sono dei magneti si dice di ordine superiore quadrupoli ottopoli perché chissà di cosa parliamo ma insomma sono degli altri tipi di magneti che hanno invece il compito di fare focalizzazione dei fasci e di fare diciamo il controllo fine quindi usando questi magneti per esempio quando i se volete i due fasci arrivano così loro chiaramente sono in traiettoria per non collidere sono paralleli quello che succede è che quando siamo a un'energia tale che vogliamo far collidere i due fasci quindi non vogliamo più che siano paralleli questi magneti vengono attivati i fasci vengono deviati leggermente si scontrano nel centro dell'esperimento dopodiché si attraversano alcune delle particelle di cui sono fatti collidono il resto prosegue e poi vengono rideviati nei due tubi separati per rifare un altro giro e questo avviene in ognuno dei quattro punti in cui i fasci vengono fatti collidere in corrispondenza dei quattro grandi esperimenti del CERN che vi racconto Roberto Roberto volevo semplicemente aggiungere un po' come quando sull'autostrada ci deviano e ci dicono che dobbiamo dobbiamo andare sull'altra corsia e ci ritroviamo a fare avanti e dietro nell'altra in una sola corsia in una sola carreggiata piuttosto che nelle due dell'autostrada esattamente in quella maniera e poi si riseparano sono d'accordo con te sul fatto che dicevi che i nostri colleghi dell'acceleratore sono direi dei maghi perché tutta questa cosa che Roberto vi stava dicendo dello scontro nei quattro punti nello stesso momento cercando di fornire la stessa quantità di collisioni ad ogni esperimento avviene tenendo conto che il fascio non è una cosa continua ma è come è come un treno con tanti vagoni che si susseguono uno dietro l'altro per cui quando Roberto vi diceva che si scontrano i fasci ogni 25 nanosecondi vuol dire che voi avete due vagoni che si scontrano ogni 25 nanosecondi e questa cosa che avviene in continuazione ha ovviamente anche il fatto che i fasci devono essere separati e messi insieme separati e rimessi insieme in punti determinati con una densità tale che voi ogni esperimento ha esattamente la stessa o quantomeno ATLESS e CMS hanno lo stesso numero di collisioni quindi è veramente una come dire bisogna tener conto di tutta una serie di parametri bisogna essere veramente multitasking come si dice una serie di parametri che a pensarla sembrerebbe che non si possa fare invece si fa e lo fanno anche molto molto bene devo dire ora io mi trovo prego si interrompo abbiamo un'altra domanda sì prego e a livello pratico per quale motivo si accede accanto al detector cioè quali sono le azioni che vengono effettuate una volta arrivati dove sono io non ho sentito bene la domanda da qui ho capito bene la domanda è perché si scende nella caverna dove sei tu accanto all'esperimento qual è la necessità che ci porta ad andare lì fisicamente la necessità adesso ovviamente la visita virtuale normalmente non si scende se c'è se c'è fisica se ci sono le collisioni non si scende la luce è spenta non si vede niente come vi diceva Roberto perché le immagini noi riceviamo dei segnali che poi vengono tradotte dai computer in immagini digitali quindi non c'è alcuna necessità di scendere qui si entra in questa caverna se c'è o se c'è possibilità di far visitare come stiamo facendo adesso o ancora più diciamo di routine se c'è qualcosa da controllare ora tenete conto che qua abbiamo l'esperimento ma l'esperimento l'elettronica che io vi ho fatto vedere fuori è un'elettronica al di fuori della caverna ma qui abbiamo già dell'elettronica attaccata all'esperimento anche quella può avere dei problemi e magari bisogna andare a controllare ora se è un controllo veloce si può scendere anche quando si hanno questi stop come abbiamo in questo momento altrimenti si aspettano i famosi periodi di stop che vi dicevo prima che sono un po' più lunghi ora io non so questo magari non so se Roberto lo sa se questo stop che abbiamo in questo momento è stato chiesto da CMS oppure è stato chiesto magari da un altro esperimento allora cosa succede? qualcuno chiede di fermare il fascio può essere anche l'acceleratore che dice ho bisogno di controllare alcune cose perché ci sono degli elementi che non funzionano propriamente quindi si ferma il fascio le collisioni si fermano e automaticamente tutti e quattro gli esperimenti approfittano per fare dei controlli io so che a questo round non siamo stati noi non so chi sia stato però noi siamo contenti ne approfittiamo c'è una frase io mi riferisco sempre a una frase del generale Lafayette che diceva che quando si va in guerra e c'è un momento di pausa bisogna sempre approfittare per far pipì perché non si sa cosa succede dopo quindi qua il fatto è che anche se non l'abbiamo chiesto qui da CMS di fare questo stop nel momento in cui avviene e non c'è fascio tanto vale andare a controllare delle cose per essere sicuri che poi quando il fascio torna tutto si spera a posto questi sono i due motivi Roberto ne vedi degli altri non credo no è questo anche perché è una macchina talmente complessa fatta di milioni di parti molto delicate che è normale che durante l'uso diciamo mentre la macchina è in funzione giusto 24 ore su 24 7 giorni su 7 qualcosa ogni tanto si rompe questa è la vita quindi ognuna di queste opportunità noi la sfruttiamo al massimo per andare a cambiare quello che possiamo a controllare esatto abbiamo un'altra domanda scusate ma è un piacere prego prego buonasera una domanda qual è la potenza elettrica necessaria per tenere in funzione della macchina intesa anche con l'acceleratore Roberto tu hai i numeri io non mi ricordo il numero ma io confronto la città di Ginevra esatto la città di Ginevra io so un quarto circa della città di Ginevra se ricordo bene una cosa del genere 200 megawatt mi dice Zoltan qui accanto sì sì appunto quindi tanta roba tanta roba e tanta e tanta roba una volta si diceva che fermavamo nell'inverno perché c'era riscaldamento per risparmiare però adesso con il caldo che abbiamo i climatizzatori anche d'estate questa cosa non funziona più quindi ma comunque sì è tanta roba però diciamo anche una cosa l'energia che noi utilizziamo almeno sulla carta come l'abbiamo pensata viene da una centrale idroelettica installata sul Rodano sul fiume Rodano che dovrebbe fornirci tutta quanta l'elettricità necessaria e viene dalla Francia perché semplicemente perché costa meno chiaramente se c'è un problema sulla rete francese quello che si fa si passa sulla rete svizzera e si prega di tornare al più presto possibile sulla rete francese perché ripeto sono motivi di costi però insomma è una bella cosa io prima non l'ho fatto vedere ma quei cavi rossi che indicavamo soltanto loro allora non vuoi quando caricate quando avete un trasformatore a casa di solito 12 volt più o meno l'ordine di grandezza beh lì ne passavano 12.000 giusto per dirvi in quei cavi cosa passava ed erano dei cavi semplicemente messi lì 12.000 volt quindi questo per darvi un po' un'idea tra l'altro noi siamo l'esperimento che consuma meno questo me lo ricordo tra i quattro esperimenti del CER noi siamo quello che consuma meno compatto anche nei costi compatto anche nei costi esatto volevo soltanto un attimo per approfittare così mi muovo verso il tetto per dire alle mie spalle ho di fatto la diciamo il tappo uno dei tappi laterali di questo di questo esperimento cioè della della famosa grande vignetta potete vedere in alto che ci sono delle scale al di sopra proprio che sono praticamente la parte della della gabbia che tiene le che tiene le le fette e io ora mi arrampicherò proprio sul tetto se mi seguite pian pianino andiamo Roberto io non so puoi continuare a parlare magari nella tua descrizione io magari l'unica cosa che dirò da sopra sarà parlare un po' del sistema di antincendio però per il resto puoi andare tu ok ottimo se ci sono altre domande per caso si arriva eccoci perfetto bellissimo che sia così interattivo ottimo si buonasera buonasera siamo spinto sotto terra non è un altro motivo è che si è schermato per esempio delle interferenze di particelle con alta energia anche questo ci fa piacere più che alta energia diciamo le particelle cosmiche arrivano lo stesso ne arrivano meno ma arrivano lo stesso da una parte ci fa anche piacere perché noi possiamo usare il passaggio di queste particelle cosmiche per fare una taratura dell'esperimento possiamo fare quello che chiamiamo allineamento per esempio quindi in realtà ogni volta che noi spegniamo che l'acceleratore si spegne quindi per esempio ogni inverno quando andiamo a fare manutenzione CMS si apre a fisarmonica la C di CMS sta per compact come vi diceva Sonia e come vedete tutte queste fette sono tutte una accanto all'altra non si può entrare dentro nel cuore di CMS a fare manutenzione lo vedete qua sono d'accordo Sonia ora sta salendo su una delle fette ma non c'è spazio per entrare fra una fette e l'altra per fare manutenzione dobbiamo aprire CMS a fisarmonica poi Sonia vi farà vedere come si fa questo ma viene proprio aperto a quel punto si può entrare e fare manutenzione poi viene richiuso chiaramente è impossibile che ognuna delle parti sia al micron non riallineata rispetto alle altre come era prima di aprirlo questo mostro da svariate migliaia di tonnellate quindi usiamo i raggi cosmici per in realtà fare una misura vera e propria di qual è la posizione relativa delle varie componenti e correggere quindi il fatto che arrivino un po' di raggi cosmici ci fa piacere dopodiché durante le collisioni i raggi cosmici ci possono dare fastidio in realtà noi possiamo scartarli abbastanza facilmente perché se voi ripensate all'immagine che vi ho fatto vedere prima se giusto un secondo la rimettiamo se voi guardate come è fatta una collisione dell'LHC tutte le particelle arrivano da un punto ben preciso dal centro se passa un raggio cosmico un raggio cosmico passerà da una parte casuale dell'esperimento è sostanzialmente non dico impossibile ma sostanzialmente impossibile che un raggio cosmico passi l'esperimento esattamente passando dal centro di questa collisione quindi diciamo non è non è un grosso problema e anzi ci fa anche piacere in un certo senso vedo che Sonia è in cima all'esperimento se ci vuole raccontare cosa vede allora aspettate che non so se vi dà fastidio la luce la tiro un attimo su sorry un attimo solo ecco ok allora innanzitutto sono sul tetto dell'esperimento praticamente sono qui e vi assicuro non so se avete potuto notare un po' la vista di quello che è intorno una cosa interessante è che vi lasciamo vedere vi ricordate che vi ho parlato del pavimento mobile da cui poi c'è questo buco che conduce alla caverna e lo avete proprio lo avete proprio inquadrato in questo momento vedete che è più scuro perché c'è il pavimento che è chiuso ma quando il pavimento è aperto ovviamente possiamo vedere la superficie ed è esattamente da qui che abbiamo calato le fette dell'esperimento come diceva Roberto ogni fetta adesso è accostata l'una con l'altra e quindi non è possibile entrare all'interno dell'esperimento c'è un sistema che vi mostrerò sotto per farvi vedere come si apre mentre invece mi interessava qui dirvi parlarvi un attimo di questi oggetti rossi che vedete alle pareti eccoli là vedete dei bocchettoni allora questi bocchettoni che ce ne sono tanti per tutta la caverna sono se volete l'ultima carta che ci giochiamo nel caso in cui si sviluppasse un incendio in caverna cosa vuol dire? vuol dire che chiaramente avendo tanta elettronica poi cavi insomma cioè parti che si possono e che sono infiammabili si può sviluppare un incendio e ogni armadio che contiene l'elettronica al suo sistema di antincendio sia automatico che con degli estintori forse l'avete intravisti prima che servono per intervenire ma se nulla si può fare cioè se l'incendio è proprio fuori controllo abbiamo l'ultima carta da giocarci che sono questi bocchettoni che permettono di far uscire della schiuma di CO2 che di fatto è quello che esce dagli estintori quelli piccoli che abbiamo nelle scuole negli uffici ma praticamente qua ne esce una tale quantità che copre tutto l'esperimento quindi immaginatevi questo esperimento alto quanto un palazzo di cinque piani e lungo quanto un palazzo di otto piani totalmente ricoperto di panna montata ok perché poi la spuma sembra questo qual è il problema grosso problema questa questa spuma penetra nell'esperimento penetra in ogni interstizio e non si può ripudirlo per cui se si dovesse attivare questo sistema l'esperimento diventa un pezzo da museo e non si usa più quindi controlliamo sempre il funzionamento di questi sistemi li abbiamo provati all'inizio abbiamo riempito la caverna ma dopo di che li abbiamo adesso controlliamo che funzionano ma speriamo di non doverli mai usare perché altrimenti andiamo a distruggere l'esperimento in effetti quando abbiamo fatto questo test all'inizio la caverna era vuota lo abbiamo chiamato veniva chiamato il foam party il party della schiuma diciamo così insomma è qualcosa di come dire di impressionante pensare che si possa avere questo sistema ma d'altra parte è l'ultima maniera che possiamo fare per spegnere l'incendio ora io quello che faccio abbandono questa zona e scendo invece ai piedi dell'esperimento per mostrarvi altre cose interessanti che saranno l'ultima parte di questo percorso interno quindi Roberto ti do la parola di nuovo e niente procedo va bene grazie ottimo ci vediamo giù altre curiosità c'è una programmazione della sua durata c'è una programmazione della sua durata e non parlerei tanto di vita nel senso che chiaramente a certo punto finirà d'accordo però se volete un po' c'è un continuo aggiornamento questo rivelatore non è lo stesso che era quando abbiamo iniziato a prendere dati quindi la programmazione arriva se volete già fino alla morte tra virgolette di questo esperimento c'è già in programma un grande potenziamento dell'esperimento che verrà installato a partire dal prossimo long shutdown quindi noi adesso in questo momento stiamo prendendo dati non esattamente in questo momento ma diciamo in questi anni e dopodiché ci sarà ancora l'anno prossimo di presa dati poi ci fermeremo durante questo stop succederanno sostanzialmente degli aggiornamenti non solo degli esperimenti ma anche a questo giro dell'acceleratore che diventerà sostanzialmente un acceleratore completamente nuovo si chiamerà high luminosity LHC e tutti gli esperimenti saranno potenziati perché questo nuovo acceleratore quello che farà è produrrà collisioni a un'intensità ancora maggiore di quella attuale quindi l'esperimento se volete si chiamerà ancora CMS ma sarà quasi completamente nuovo in questo senso e questo è già stato progettato decenni fa perché uno a partire dalla fase di progettazione deve poi sostanzialmente disegnare e a volte inventare la tecnologia che serve per avere le performance che servono per poter fare gli studi a cui siamo interessati quindi è difficile dare un'idea una stima della vita vera e propria di questo esperimento certo è che quando finirà la fase che chiamiamo di alta luminosità questa nuova fase dell'acceleratore che dovrebbe durare circa dieci anni dal 2027 quindi fino a circa il 2037 poi i piani cambiano sempre un po' e questo esperimento nella forma attuale andrà in pensione poi cosa ci sarà dopo questo sta venendo deciso in questi anni Roberto mi senti sempre? mi sento posso giusto aggiungere una piccola cosa all'ultima una postilla alla risposta di Roberto volevo dire per dare un'idea dei tempi di questi esperimenti allora bisogna pensare che di fatto per esempio abbiamo avuto uno degli acceleratori del CERN ha funzionato dal 1989 fino al 2000 con gli esperimenti che erano che erano là sopra e adesso abbiamo dal 2008 probabilmente fino al 2037 2040 questo dipende chiaramente diciamo che alla base c'è che si fa quello che si chiama l'upgrade cioè il rinnovamento dell'esperimento ma c'è anche un fatto io penso pratico che è una questione anche di denaro cioè nel senso nel momento in cui vogliamo facciamo un esperimento cerchiamo di sfruttarlo fino alla fine e cerchiamo quindi di usare quello che abbiamo per più tempo possibile sono progetti che hanno tempi medi di vita di 30 40 anni anche se vengono continuamente rinnovati come diceva Roberto la tecnologia che abbiamo oggi in realtà che metteremo qui in realtà è già una tecnologia vecchia non per il mondo esterno ma per noi perché è stata sviluppata già parecchi anni fa e quindi continuiamo a sviluppare quindi uno si può aspettare che quello che funzionerà nel 2037 è una tecnologia che viene da 10 anni prima ma che probabilmente dopo 10 anni sarà utilizzata nella vita di tutti i giorni quindi questi sono i tempi le scale dei tempi degli esperimenti che abbiamo qui un po' dovuti appunto a senso pratico di costi e un po' proprio perché si vuole veramente sfruttare la macchina fino all'ultimo chiedo scusa ho prolungato la risposta diamine anzi grazie c'era un'altra domanda sì allora prima avevamo parlato della temperatura di zero assoluto per il funzionamento dell'esperimento ma riguarda solo il tubo o anche l'intera struttura quindi per salvaguardare l'elettronica riguarda i magneti in particolare non è tanto la pipe la beam pipe la parte importante della beam pipe non è tanto che sia fredda e che sia vuota quindi viene svuotata di aria raggiunge un vuoto molto 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 spinto penso sia il vuoto più spinto che si raggiunge vorrei dire al mondo maggiore del vuoto nello spazio interstellare Roberto eh sì esatto penso sia anche fra i vuoti più spinti che si raggiunge in qualsiasi posto quindi quella è la parte importante per la beam pipe per la parte invece di raffreddamento questo è cruciale per i magneti ed è cruciale perché per avere i campi magnetici dell'intensità che di cui abbiamo bisogno per fare quello che dobbiamo fare l'unico modo cioè non l'unico modo ma diciamo il modo di granunga migliore visto che dobbiamo iniettare correnti elevatissime ok decine di migliaia di ampere quello che dobbiamo fare è raffreddare i magneti i magneti sono fatti di materiali particolari per esempio i magneti di cms è una lega di niobi e titanio che a temperature nel caso di cms di circa 4 kelvin quindi 4 gradi sopra lo zero assoluto diventa superconduttrice questa lega quindi il magnete diventa superconduttore una cosa analoga succede nei magneti dell'acceleratore questo ci permette di sostanzialmente annullare la resistenza elettrica quindi possiamo iniettare queste correnti estremamente intense senza sostanzialmente scaldare il magnete al punto anche da farlo evaporare quindi questo è il punto cruciale del raffreddamento vedo che Sonia nel frattempo è arrivata forse nel punto più suggestivo della caverna ovvero ai piedi dell'esperimento esatto innanzitutto di nuovo vi sto mostrando e questa volta non è una foto anche se quella era a grandezza reale sono veramente vicino all'esperimento e potete vedere che di fatto è enorme avere veramente incombe ed è una una vista totalmente diversa da quella che avevamo prima dall'alto sono vicino a quello che si chiama air pad in realtà ce ne sono tante ora io non so nel senso io me lo ricordo quando ero piccola magari qualcuno di voi se lo ricorda non so se si fa ancora quando si dava la cera al pavimento poi si mettevano le pattine per non sporcare il pavimento e si scivolava i bambini si divertivano bene diciamo che queste sono se volete le pattine dell'esperimento perché perché abbiamo detto che questo esperimento è fatto a fette e io devo avere ho dovuto avere la possibilità in passato di calare le fette e poi riunirle così come ad ogni interruzione lunga interruzione di tre mesi o di un anno deve avere la possibilità di aprirlo per poter intervenire all'interno delle fette com'è che si fa? si fa utilizzando questi air pad dove allora la tecnica è semplice ed è secondo me sorprendente questi sono dei tubi da cui viene iniettata dell'aria compressa quest'aria compressa riesce a non sollevare ma diciamo ad alleggerire la fetta vedete c'è del grasso anche ad alleggerire la fetta leggermente poi si mette del grasso e si agganciano dei cavi adesso vi faccio vedere dei cavi se Noemi mi segue dei cavi di acciaio che sono agganciati a questo sistema che è una specie di verricello vedete i cavi sono questi qua ci metto vicino una mia mano per indicarvi come un cavo vedete ma in realtà forse qua si vede cioè il tiraggio avviene con sei cavi in parallelo e questo oggetto tira e quindi riesce a tirare verso la in questo momento verso di me la fetta chiaramente ce n'è uno da questa parte e uno dalla parte parallela questo per aprire le fette se devo richiuderle come poi è stato fatto recentemente nel mese di di febbraio abbiamo degli altri sistemi di questo genere che sono dall'alto opposto e che servono per tirare dalla parte opposta il messaggio è non si spinge mai si tira sempre o in un senso o nell'altro attraverso questi cavi il processo avviene lentamente ma non poi così lentamente diciamo che nell'arco di un'ora voi vedete spostare di almeno un metro questo oggetto normalmente quando fanno gli spostamenti quindi si apre proprio come un organetto e si può entrare dentro questo potreste vederlo se veniste qua a partire dalla fine di novembre diciamo dicembre gennaio è il momento tipico in cui si aprono queste cose quindi quando uno arriva a vedere fette alcune fette separate e vede cosa curiosissima le persone tipo formiche che si arrampicano e entrano dentro ora un'altra cosa che vorrei mostrarvi ed è il momento non so se è il momento cluma è il momento più divertente a mio avviso dove veramente si vede quanto la fisica noi stiamo parlando qua di fisica diciamo così di particelle di cose precise ma in realtà ricordiamoci che la fisica che è una parola greca che vuol dire natura è di fatto fa parte della nostra vita di tutti i giorni quindi ogni fenomeno che ci circonda la penna che cade l'acqua che bevo la pioggia e il fatto che mi scaldo con il sole questo fa parte tutto della fisica e allora perché non e non è che tutti voi capite questi fenomeni non è che tutti voi fate di mestiere fisici quindi non è che io mi ritengo una tecnica della fisica solamente perché ho deciso di fare di questo diciamo di questo lavoro il mio mestiere e ho imparato delle cose tecniche ma chiunque può percepire il fenomeno fisico e allora divertiamoci un attimo e vediamo un po' che cosa succede per esempio qui ho delle graffette adesso ne metterò un po' allora questa parte qua ora non c'è campo magnetico ma c'è un campo magnetico residuo cioè è praticamente questa parte metallica è rimasta magnetizzata da quando il magneto era acceso qualche giorno fa e ci divertiamo a mettere questi fili d'erba un po' così ve ne metto anche qualcuno colorato ho delle graffette colorate vedete ormai mi sono specializzata questa qua è una catenina dovrei avere ho una scatolina di riserva aspettate che la prendo perché quelle trasparente si vedono poco eccole qua aspettate che le mettiamo eccole qua allora forse ecco guardate questa qua dentro la scatolina non so se riuscite a vedere rossa forse è bianca ecco bianca la mettiamo qua guardate le graffette le graffette bianche ok e poi ci divertiamo ne prendiamo una questa qua e cominciamo a farle muovere tutte quante ora vedete io non le tocco è attraverso il fatto che sono magnetizzate attraverso la magnetizzazione riesco a farle muovere non le sto affatto toccando e non pensiate che sto facendo vento perché potrei provare a fare vento ma credo che si muovano veramente poco adesso provo a fermarle probabilmente non si muovono neanche ci provo a fare vento guardate qua un pochino si muovono ma non tanto ma guardate cosa riesco a fare con una graffetta addirittura riesco anche a prenderle posso fare anche qualche altra cosa vediamo un po' proviamo a farla questo giochino l'abbiamo fatto altre volte mettiamo una graffetta qui e vediamo quante ne riusciamo ad attaccare prima che non cadano per il loro peso ora queste graffette colorate sono sono simpatiche da vedere ma è anche vero che essendo rivestite di plastica sono un po' meno diciamo performanti come vedete cadono perché il campo magnetico non è perfetto proviamo a farlo con quelle con quelle metalliche forse viene meglio eccolo qua eccole qua vedete questa riuscite forse con con il questo è il campo magnetico residuo in questo momento francamente visto che non stiamo facendo una lezione di fisica ci importa poco di capire quali sono le formule e le equazioni vediamo solo il fenomeno fisico e deduciamo che c'è un campo magnetico altrimenti queste graffette non potrebbero restare così magnetizzate vicino a questo oggetto pensare che questa cosa qua io la posso fare senza campo magnetico vero ma solo perché c'è il residuo di qualcosa che c'era qualche giorno fa è di fatto vedete questo è troppo e si sono attaccate qua le vedete continuano ad attaccarsi in qualche maniera alla struttura e qui l'ultima cosa che vi faccio vedere poi penso che posso risalire su sono queste altre non so se si fanno a volte succede che si muovono vedete che sono tutte dritte qua non è che le ho messe io dritte queste qua sono le graffette che si muovono a seconda del campo magnetico si sono messe in piedi perché c'era il campo magnetico non so se riesco a farle variare quando c'è il campo magnetico acceso si muovono molto di più chiaramente comunque di fatto sono le vedete tutte attaccate e magnetizzate ma non sono incastrate sono attaccate e magnetizzate tra di loro vedete e questo Roberto c'è qualche altra cosa no secondo me questa è proprio l'idea di quanto sia intenso il campo magnetico quando è acceso se solo la magnetizzazione residua comunque è visibile occhio nudo che non è banale per un campo magnetico allora vi posso dire una cosa mi è capitato penso fosse l'anno scorso più o meno verso marzo dell'anno scorso siamo riusciti a fare una visita virtuale ma c'era il magnete acceso e allora io mi trovavo in questa posizione ora se vedete le mie scarpe queste sono scarpe particolari che vengono diciamo da cantiere che servono per proteggere e hanno la punta metallica per proteggere il piede ebbene io mi sono trovata a fare questo movimento non so neanche perché a mettermi sui talloni e le scarpe mi si sono orientate come il campo magnetico cioè la punta metallica si è messa un po' come le graffette qua e io sono rimasta interdetta chiaramente ho avuto una reazione sembrava di essere nel paese dei balocchi perché quando si cammina siccome c'è questo metallo sembra veramente di fluttuare nell'aria si tocca il pavimento ma c'è questa sensazione strana è un po' come quando avvicinate due magneti sapete i magneti che mettete nel frigorifero e provate ad avvicinarli non si attaccano e sentite quella quella repulsione esattamente questo quello che sentivo sotto le scarpe quindi effettivamente Roberto è qualcosa di strabiliante una cosa da provare una cosa da provare io penso che raccoglierò tutte queste cose adesso e magari torno su se non ci sono altre cose se le lasci lì e poi riaccendono il magnete magari succedono cose spiacevole e magari vanno nell'elettronica e poi fanno un cortocircuito beh diciamo che non è piacevole esatto esatto quindi forse il caso che le raccolga in maniera precisa tutte quante non lasciandone neanche una infatti ieri per raccogliere tutte quante tutte quante c'era il grasso per terra e mi sono mi sono praticamente sporcata tutta con il grasso ecco ce ne sono altre Noemi sta giocando ancora con le drappette e sì ma non so voi ma noi ci divertiamo guardate che noi ci divertiamo qua cioè non è mica non è mica una cosa è vero che abbiamo fatto fisica teorica però poi alla fine scusate ci divertiamo anche così allora io torno su se siete d'accordo se non volete vedere altro e ci vediamo in sala e va bene sì nel frattempo arriva una domanda mentre ottimo ottimo io sarò contentissimo se arriva una domanda ciao quello è Roberto siamo in chiusura ma a questo punto tuteliamo un po' le somme grandi linee se un po' particelli di motoni di gluoni e quant'altro mi potete partecipare un po' le somme di particelli cosa sta arrivando di nuovo sono aspettate quindi se capisco bene la domanda è un po' ho sentito la prima parte della domanda e non tanto la seconda se ci sono diciamo nove particelle che arrivo ok lo speriamo molto la verità è che diciamo i known unknowns cioè nel senso che le particelle che non avevamo ancora trovato che eravamo ragionevolmente sicuri di dover trovare a un certo punto l'abbiamo trovate l'ultimo l'ultimo è stato il bosone di Higgs nel 2012 ora cosa ci aspettiamo di trovare dopo in realtà non abbiamo un'idea troppo precisa quello che sappiamo per certo è che c'è ancora tanto da scoprire questo lo possiamo sapere per tanti motivi sappiamo che ci sono tante cose che non abbiamo ancora capito sappiamo che la maggior parte della materia che c'è nell'universo non è del tipo di cui siamo fatti noi è la materia oscura d'accordo perché la chiamiamo oscura perché non sappiamo cosa sia d'accordo sappiamo che c'è sappiamo che c'è perché attira gravitazionalmente altre cose quindi vediamo come modifica il comportamento delle galassie vediamo come curva la luce vediamo tutte queste cose sappiamo che c'è non sappiamo di cosa sia fatta sappiamo che non è fatta delle stesse particelle di cui siamo fatti noi che sono le particelle che studiamo al CERN di fatto diciamo quella famiglia di particelle lì le particelle che sono riassunte in quello che chiamiamo in modo un po' noioso il modello standard che è questa teoria magnifica che descrive quasi tutto quello che sappiamo a livello di interazioni fondamentali questo è solo per fare un esempio ci sono altre cose che non sappiamo d'accordo sappiamo per esempio che i neutrini che forse avrete sentito sono una particella molto particolare hanno una massa e non è ancora del tutto chiaro come fanno ad avere questa massa quindi ci sono tante cose da studiare dopo di che questo non dice neanche niente di tutto quello che non sappiamo neanche ancora di non sapere quello che se volete la potete pensare come una gerarchia di energie noi conosciamo la fisica come si comporta la natura fino a una certa energia che è quella che siamo riusciti a studiare qua fino adesso e la natura si comporta in modi molto diversi quando voi cambiate l'energia pensate solo manualmente se vuoi energia e temperatura se volete sono sinonimi d'accordo energia media è quello che la temperatura vi dice quindi se voi pensate di prendere partire dallo zero assoluto tutto congelato tutto fermo niente si muove iniziare ad alzare la temperatura la natura si comporta in modi molto diversi da lo stato solido a poi lo stato liquido in cui le particelle scorrono una sull'altra poi a un certo punto si liberano abbiamo il comportamento di un gas saliamo ancora gli elettroni si staccano dagli atomi e quindi a un certo punto di un tratto cambia ancora la dinamica perché adesso siamo in un plasma d'accordo se saliamo ancora si disgregano i nuclei atomici poi si disgregano i protoni e cambia sempre il modo in cui si comporta la natura e noi siamo riusciti a vederla a osservarla fino a una certa energia sopra non sappiamo possiamo fare delle deduzioni ma finché non andiamo a vedere non sappiamo cosa ci sia però devo aver risposto più o meno alla domanda chiaramente ci sono anche nel senso anche non si dice magari molto spesso ma anche non trovare delle cose è comunque importante è chiaro che è meno plateale se vogliamo però non trovare cose che pensavamo di dover trovare ci dà comunque tanta informazione si è sentito spesso parlare di supersimmetria d'accordo questa teoria molto bella che doveva nella visione di molti fisici armonizzare un po' risolvere diversi dei problemi fra cui forse anche la materia oscura che attualmente sono irrisolti per adesso non l'abbiamo vista c'erano dei buoni indizi per cui avremmo potuto vedere qualcosa di questo tipo all'LHC non l'abbiamo vista vuol dire che non c'è alle energie che abbiamo attualmente e questo da una parte è deludente dall'altra diciamo ci esclude una classe una serie di potenziali soluzioni però ci dà indizi su dove in realtà le soluzioni vere potrebbero essere quindi anche quelli che chiamiamo risultati negativi sono comunque importanti alla fine la scienza è fatta di tanti piccoli risultati sia positivi che negativi spesso negativi e alcuni grandi risultati positivi come la scoperta del bosone di X che è stata l'ultima grande scoperta in questo senso Roberto Onia dimmi tutto mi senti? sento sì sì volevo oh no ora ti ho persa andiamo le 10 secondi no niente quando passa di lì la connessione salta sempre non la studiamo più quindi i risultati negativi sono per noi comunque diciamo che per i fisici qualsiasi risultato positivo o negativo ci fornisce un indizio e quindi lo collezioniamo poi è anche vero che le energie effettivamente quelle delle HC diciamo che quello che ci limita moltissimo è la oh no l'abbiamo di nuovo persa spostandosi da un edificio all'altro la connessione fa così in frattempo vi invito a fare altre domande la parte migliore di liberare Roberto e Sonia poi nel frattempo vi facciamo giusto magari fare un breve giro della control room appena torna Sonia con la telecamera e poi appunto curiosità noi vi invitiamo anche a a venire a trovarci assolutamente se questo piccolo giro virtuale vi ha incuriositi si può sempre venire come possono fare per fare una visita a CMS il modo più facile è andare a contattare i miei colleghi che sono lì con voi in realtà basta andare sul sito del CERN ma se volete perché no parlate con loro e fatevi lasciare i contatti mi ha dato una mail a loro e vi possiamo mettere si possono organizzare le visite è tutto assolutamente gratuito chiaramente si tratta di venire a Ginevra ma una volta che siete qui non c'è niente da pagare basta prenotarsi per tempo e noi siamo ben felici di farvi fare il giro che vi abbiamo fatto fare oggi ma di persona non c'è un minimo potete venire in due anche non c'è nessun problema magari l'unica cosa che esatto se venite in due magari vi chiederemo di aggregarvi in un altro gruppo però non c'è un limite inferiore magari appunto tra novembre e marzo per un visitatore potrebbe essere più interessante perché quando aprono appunto l'esperimento e si riesce a vedere può anche accedere appunto alla parte della parte personale esatto per arrivare pronti nel mondo e non sento moltissimo chiedevano quante acceleratori ci sono 4 al CERN o in generale al CERN ce ne sono molti diciamo perché l'LHC è il più grande il più potente ma anche molti dei vecchi acceleratori del CERN sono ancora in funzione come pre-iniettori la catena in realtà la vita dei fasci di protoni che arrivano nell'LHC non inizia nell'LHC inizia da una bomboletta di idrogeno questo idrogeno viene ionizzato poi viene iniettato in un primo acceleratore che non è circolare ma è lineare dove c'è la prima accelerazione dopodiché i fasci passano da una serie di pre-acceleratori il primo si chiama proton-sincrotron booster poi c'è il proton-sincrotron il super-proton-sincrotron che è diciamo l'acceleratore diciamo di carli rubia esatto quindi il tunnel diciamo era il più grande prima che venisse costruito l'LHC dove sono state scoperte insomma sono state scoperte un sacco di cose e quindi gli acceleratori ce ne sono tanti ce ne sono anche tanti più piccoli ci sono anche abbiamo anche un deceleratore che è una cosa molto carina che ci serve quando noi collidiamo per esempio dei fasci di particelle su delle taghette di materiali vari creiamo tutta una serie di particelle molte di queste sono particelle di materia ordinaria altre sono particelle di quella che chiamiamo antimateria d'accordo che è molto simile si comporta tutto e per tutto come la materia normale ma ha tutte le cariche elettriche scambiate quindi per esempio un elettrone positivo è quello che chiamiamo un antilettrone questa antimateria ci interessa studiare chiaramente non la potete toccare perché appena interagisce con la materia scusate non potete sentire Roberto in that quindi questa antimateria non la possiamo contenere non la possiamo fermare e mettere in una scatolina perché interagisce con la materia ordinaria e si dice si annichila d'accordo quindi la materia e l'antimateria si annullano se volete e quello che avete esce fuori è sostanzialmente luce quindi cosa si fa questa antimateria viene convogliata in un altro oggetto questo deceleratore di antimateria che all'apparenza funziona sostanzialmente è un acceleratore però gira al contrario quindi usa gli stessi meccanismi che usiamo per accelerare le particelle ma per decelerarle e rallentarle finché non riusciamo a poi effettivamente metterle in degli appositi contenitori dove vengono contenute magneticamente a quel punto ci possiamo fare vari studi ed è insomma un posto è un posto dove nel 2008 2007-2008 non so se qualcuno di voi ha visto il film Angeli e Demoni quello con Tom Hanks di Ron Howard ebbene Tom Hanks e Ron Howard sono venuti all'epoca qui tre giorni a parlare con uno dei capi di uno degli esperimenti che è lì per capire un po' dell'antimateria per capire come si faceva quali erano gli esperimenti e le problematiche perché Angeli e Demoni parte proprio con il furto dell'antimaterial CERN e una quantità che non abbiamo mai prodotto in tutta la nostra storia assolutamente quindi nel senso è pura fantascienza ma non solo fantascienza quello che dice il libro che chiaramente hanno rispettato perché dovevano metterlo nel film ma anche come si dice adesso la location cioè il luogo nel senso che quello che si vede nel film non è assolutamente quello che poi è il posto quindi come dire come ci vedete insomma noi siamo non siamo vestiti con camici non abbiamo abbiamo a volte in alcuni posti dove facciamo delle diciamo delle dove costruiamo per esempio parti delicate degli esperimenti abbiamo ovviamente le cuffie le bende gli stivali a me è capitato per di lavorare in quelle che si chiamano le camere pulite che poi sono anche i posti dove per esempio si fanno anche le medicine non al CERN ovviamente ma si fanno anche le medicine quindi esistono posti di questo genere ma sono puramente limitati dove si fanno gli esperimenti l'avete visto adesso dove sono andata io e anche da altre parti dove c'è il deceleratore insomma non è altro che blocchi di cemento per proteggerci elettronica e magneti e particelle dentro che viaggiano ovviamente che non vediamo ovviamente siamo con i tempi che mi sa che stiamo andando un po' lunghi però mi sembra che li abbiamo invogliati a venire no è stato interessato però allora cogliere l'occasione per ringraziare Sonia e Roberto per la presentazione di sempre un piacere io non ho fatto il giro nella nella cosa ma tanto si vedono e vabbè noi restiamo a disposizione comunque se avete altre curiosità quello che vi abbiamo raccontato noi lo sanno benissimo anche loro quindi se sei altra domanda diciamo che noi abbiamo solo il vantaggio di poter fare il giro qua ma per il resto i nostri colleghi lì sono altrettanto knowledgeable si si è sempre lì ciao grazie ciao ciao grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti